Gentili appassionati della vera arte, proseguiamo con un'opera di un grande artista, Aldo Mondino, 1973, composizione bilance. Aldo Mondino, torinese, nasce nel 1938 e muore nel 2005, purtroppo ci ha lasciati anche lui, ma ci ha lasciato anche tante bellissime tele, tante bellissime opere. Lui si forma sotto la guida di William Hates a Parigi e sviluppa una sua particolare linea. Questa opera è stata esposta ad Artissima e alla promotrice delle belle arti di Torino nel 1981, quindi vanta un suo bel curriculum. È un'opera, come potete vedere, che rispecchia fedelmente la linea di Mondino. Abbiamo una composizione fatta di colori netti e distaccati e di forme geometriche molto ben evidenziate, con volumi molto ben definiti. Questa è proprio la sua opera, questo è proprio il suo modo di agire. Un po' della personalità di Mondino la ritroviamo molto bene in questa opera. Difatti vediamo che l'uso dei colori e delle forme è in qualche modo gioioso ed ironico ed è una caratteristica molto difficile da far esaltare in un contesto assolutamente geometrico come questo. Quindi vediamo che questa bilancia improvvisamente scivola verso la sinistra del quadro perché c'è una macchia di colore che probabilmente ha fatto pendere il peso da un lato e queste belle barre colorate distanziate tra di loro improvvisamente perdono l'equilibrio e vanno verso la sinistra del quadro e addirittura escono dalla cornice, quindi vengono tagliate. Allora ripetiamo, una bellissima opera di Aldo Mondino, veramente interessante, 70%, quindi grande formato, grande cromia, grande geometria e grandi equilibri come nella caratteristica di questo artista e ovviamente con un curriculum di tutto rispetto. Ricordiamo, promotrice delle belle arti e artissima nel 1981. Quest'opera è proposta dalla Casa d'Aste Sant'Agostino e verrà esposta ovviamente durante l'asta, la prossima asta che si terrà, però voi potete da casa con grande risparmio, con grande opportunità, riuscire a farla vostra. Perché? Perché potete telefonando i numeri che ci sono in sovripressione fermare quest'opera e comperarla. Vi ricordiamo che potete averla a 6.500 euro che è ovviamente la base d'asta, mentre per esempio la sua valutazione, la sua stima, oscilla tra i 9.500 e i 13.000 euro. Quindi veramente è una grande opportunità che avete di poter subito fermare quest'opera. Vi ricordiamo ancora, composizione bilance Aldo Mondino, 1973, tecnica mista, olio su tela, opera firmata in basso a destra, autentica dell'archivio Aldo Mondino e questo voglio ricordarvelo cari amici perché la Casa d'Aste Sant'Agostino sempre propone le autentiche, sempre verifica e vi ricordo anche che oltretutto la Casa d'Aste Sant'Agostino vi dà una garanzia che è sempre valida in modo che l'autentica dell'opera costituisca per l'acquirente una garanzia totale. Allora è stata già della Galleria Il Punto Torino e c'è il timbro al retro che lo testimonia e che dire, non perdete veramente questa occasione. Una grande opera, grandi cromie, grandi equilibri, un grande nome, artista Aldo Mondino. Potete averla a 6.500 euro chiamando subito i nostri esperti della Casa d'Aste Sant'Agostino ai numeri che ci sono in sovrimpressione. Io direi che avendo presentato quest'altra bella opera ci andiamo a visitare e a guardare grandi altre tele di maestri del Novecento italiano e quindi proseguiamo nelle nostre offerte, nelle nostre proposte. E qui, cari amici, ci troviamo di fronte a un altro grandissimo artista, sicuramente l'avrete riconosciuto tutti, le sue opere sono molto significative e molto facilmente riconoscibili. Siamo davanti a un Mattia Moreni. Mattia Moreni nasce a Pavia, 1920, muore nel 1999 e si forma a Torino dove tra il 1940 e il 1941 lui è allievo di un altro grandissimo maestro, di Enrico Paolucci, del quale poi vedremo un'altra opera ovviamente, e si forma presso l'Accademia Albertina di Torino. Ma fin da giovane questo grande artista sviluppa una sua personalità molto definita, molto precisa. Ricordiamo che in quegli anni Torino è dominata dalla pittura del maestro Felice Casorati, dal gruppo dei Sei e dall'antitetico filone inaugurato da Spazzapan. Lui invece si muove su una sua personale visione dell'arte e anche della vita. Una visione che lo farà partire dalla immagine di cartelli pubblicitari, di angurie, di frutti, per andare verso discorsi ben più importanti che si allargano a una visione più generale della vita. Quindi un grande artista che prende spunto da pochissimi soggetti che vengono traslati, che vengono rivisitati in maniere sempre diverse e che portano il discorso su settori più ampi della vita. Qui noi vediamo un'opera del 1993, si intitola Marilu muore, ciao, perché? Numero 11 del 1993. Un'opera di grande valore e di grande impatto. Cosa vediamo qui? Vediamo intanto una composizione materica molto forte, colori che vanno dal bluastro al verdastro al nero. In questo vorticoso impasto di colori e di materia voi potete vedere veramente l'arte del maestro Mattia Moreni. C'è tutta la sua arte. Qui siamo nel 1993. Io vi ricordo che lui ha esposto già nel 1952 alla Biennale di Venezia le sue prime vulve, creando ovviamente un grande scalpore, ma lui lo fece con il preciso motivo di scandalizzare, perché era un chiaro messaggio contro i benpensanti dell'epoca. E lui poi ha proseguito questa idea delle vulve, o quella delle angurie, o quelle dei frutti, che vanno, come dire, distruggendosi, che vanno in disfacimento. Perché? Perché lui ci vuole lanciare un doppio messaggio. Da un lato il disfacimento della natura umana, dovuto ovviamente alla decomposizione dei corpi, o comunque dovuto all'invecchiamento delle cellule. Ma dall'altra lui vuole lanciare un messaggio molto forte, perché si riferisce anche al disfacimento dell'arte. È un grido, diciamo, di rabbia che il maestro fa, e anche di protesta, contro il disfacimento dell'arte nella sua epoca. Io ve lo torno a ricordare. Stiamo parlando del 1993, pochi anni prima della sua morte. E questa opera testimonia un po' tutto il suo pensiero. Quindi veramente io vi invito a mettere molta attenzione su quest'opera di Mattia Moreni. Vi ricordo che anche quest'opera, con la Casa d'Aste Sant'Agostino, verrà messa in asta a marzo. Ma intanto voi potete fermarla, potete acquistarla. Vi ricordo che viene posta a 7.000 euro. È una cifra che è metà della stima del suo valore. Pensate che la stima varia tra i 10.000 e i 14.000 euro. Ma voi che potete vedere adesso quest'opera, potete fermarla chiamando i numeri in sovrimpressione ed acquistarla a una cifra di assoluta convenienza. Stiamo parlando di 7.000 euro contro i 10.000, 14.000 di stime serissime. Una grande opera che oltretutto è, come tutte le opere della Casa d'Aste Sant'Agostino, come dire, certificata dalla serietà. Casa d'Aste Sant'Agostino risponde integralmente di tutte le opere che mette in vendita. Questa è una forma di rispetto per le opere, per gli artisti che le hanno fatte e per i compratori e per i frequentatori della Casa d'Aste Sant'Agostino. Vi ricordo che l'opera è firmata e datata in alto sinistra ed è datata e intitolata sul retro. C'è anche l'autentica della Galleria Allegrini di Brescia e, vi ricordo la stima, 10-14.000 euro e invece potete fermarla ed acquistarla a 7.000 euro. Ricordatevi, i numeri in sovrimpressione, per chiamare subito gli esperti di Casa d'Aste Sant'Agostino, sono a vostra disposizione per spiegarvi tutto e per aiutarvi in un acquisto che veramente è di grande valore. E noi proseguiamo la nostra visita perché ci aspettano veramente ancora tante, tante opere di grandissimi maestri e di grande rilievo. Parliamo di opere del Novecento Italiano.